La terza giostra è quindi realtà, l'abbiamo annunciato adesso in una conferenza stampa, sabato 27 agosto in notturna. Sì, finalmente abbiamo dato l'ufficialità, finora non ci eravamo espressi perché dovevamo avere ancora qualche placet, qualche nulla osta da enti importanti che erano stati interessati per la terza giostra e finalmente abbiamo sciolto le riserve e annunciato questa che per noi è un'importantissima iniziativa in onore di un evento eccezionale qual è il Giubileo della Misericordia che sarà la terza giostra, corsa sabato 27 agosto in notturna, prossimo ventura. I problemi per i quartieri sappiamo ci saranno, i quartieri stessi avevano detto chiaramente che avrebbero preferito caldamente non correre la terza giostra, però va sottolineato anche che adesso che la terza giostra in realtà sono entusiasti comunque di poter dare una mano alla città. I quartieri vivono per la giostra quindi non credo che siano scontenti di correre la terza giostra, sicuramente c'è una difficoltà organizzativa per loro e la riconosco ma non soltanto per loro, in questo cercheremo di supportarli, anche il contributo che ho annunciato che quest'anno sarà addirittura più alto di quelli degli anni precedenti è una piccola mano che daremo ai quartieri anche per aiutarci nell'organizzazione di questa terza giostra che comunque, ripeto, va negli interessi della città ma anche dei quartieri stessi che credo che saranno contentissimi di correre una giostra eccezionale e che avere nella lastrelliera questa giostra, questa lancia speciale, penso che sia un grande onore.